L'uomo negativo di Sergio Bissoli Oh, Barone Pedroschi, buongiorno. Così il mio amico aveva salutato l'uomo che stava per entrare nel piccolo negozio di pipe. Era di luglio, faceva un caldo insopportabile e le tende alla finestra erano tutte abbassate. Le mosche ronzavano senza sosta nella penombra. La porta a vetri era alle mie spalle e così non lo vidi subito. Mi voltai e Cristo, non avevo mai visto niente di simile. Per non lasciar trasparire la mia sorpresa, toccavo le pipe che avevo da provare. Ma quell'uomo aveva anche il nome di appropriato. Era piccolo, grasso, zoppo e calvo. Quando si avvicinò al banco notai che portava l'apparecchio acustico dei sordi, oltre che a due spesse lenti negli occhiali. Mai visto un individuo simile per diavolo. Mentre parlava col mio amico tabaccaio, che a quanto pare lo conosceva bene, sentii che era anche valbuziente. Salutai tutti alla svelta per non ridergli in faccia. La volta successiva che andai a trovare il mio amico, gli chiesi chi fosse quel tizio. Ma come? Non conosci il signor Barone Pedroschi, fece lui. Non l'avevo mai visto prima e quando lo rividi era morto. Era seduto, grasso e deforme, su una sedia sotto il portico. Il caldo era sfissiante e aveva mosche sulla bocca e dentro il naso. Lo avevano sistemato là provvisoriamente perché era deceduto mentre giocava a carte all'osteria. Quando arrivarono i familiari, gli sfilarono l'orologio e l'anello. Quelli delle pompe funebri portarono una cassa provvisoria e ce lo misero dentro. Ma era pesantissimo. E nel sistemarlo i vestiti si attorcigliarono su per la schiena. Da un barbiere furono presi di giornali sportivi per mettergli lì sotto la testa, come cuscino, perché assumesse una posizione più decorosa. In cimitero poi ero presente quando ce lo portarono. La cassa nuova di zecca, color marrone chiaro, lucicava sotto il sole. Se non che l'impresa di sistemarlo nell'oculo non fu a fare da poco. I becchini colpavano il falegname, questi scaricavano la responsabilità ai muratori. La cassa per pochi centimetri non entrava nell'oculo. Si provò di traverso, in diagonale. La tomba di famiglia era stretta, l'apertura mal sistemata. Un operaio andò a prendere la sega. Segarono sotto gli occhi preoccupati dei parenti i quattro angoli della cassa, badando a non intaccare la salma. Fu spinto dentro a forza di sbuffate e si tirò sul muretto con la malta indurita. I pezzi della bara, però, furono lasciati a lui e messi all'interno dell'oculo.